Buongiorno ETV, bentrovati con la rassegna stampa della nostra emittente. Primo appuntamento del 2023 e ne approfittiamo allora subito per augurarvi buon anno in questo inizio di una nuova settimana, non soltanto appunto di un nuovo anno all'insegna chiaramente delle notizie. Ogni mattina, sette giorni su sette, sul canale 12 di ETV Marche, chiaramente il canale 12 del digitale, ma anche in contemporanea streaming. Sul nostro sito tvmarche.it, la nostra pagina Facebook di ETV, la nostra app di ETV Marche. Tanti modi, tutti i modi che conoscete, che potete utilizzare per seguirci e per restare dunque sempre connessi non soltanto con la nostra emittente, ma anche per essere sempre informati su tutto quello che succede all'interno dei confini della regione Marche, ma chiaramente anche per avere le notizie dall'Italia e dal mondo. E sono tante quelle che sono arrivate al termine del 2022 e all'inizio di questo 2023, in particolare per quello che ci riguarda più da vicino, quindi per le notizie di carattere locale. Chiaramente è un momento di bilancio anche di quello che è stata la lunga notte, la notte più lunga dell'anno, quella che ha salutato un pezzo di noi, il 2022, e che ha accolto invece qualche cosa di nuovo come per l'appunto il 2023, le nascite, le nuove nascite, le prime nascite del nuovo anno, un segnale chiaramente di speranza, e poi tanti fatti di cronaca e anche le prime questioni che ci saranno da risolvere per la politica di casa nostra. Cominciamo subito e vi porto sull'home page del nostro sito www.etvmarc.it perché per l'appunto a tenere banco è la questione del Capodanno con il Capodanno di Ancona, una grande festa in città tra il concertone in Piazza della Repubblica, mercatini e locali aperti, ruota panoramica e pista di pattinaggio, una grande festa diffusa dunque per tutto il centro di Ancona che ha avuto anche il suo momento clou con il saluto istituzionale e l'augurio istituzionale del sindaco Valeria Mancinelli che è salita sul palco e che di fatto si trovava di fronte al teatro delle Muse per salutare tutti i cittadini accorsi, 3.000 le presenze, qualche nota più stonata la troveremo anche scorrendo i quotidiani con parecchie serrande abbassate dei locali o comunque delle attività che insistono in questo caso su Corso Garibaldi mentre Piazza della Repubblica era davvero gremita e si è scoperta o riscoperta, se vogliamo, una nuova sede per gli spettacoli, per gli eventi pubblici come quella di Piazza della Repubblica anche se l'assessore Paolo Marasca ha tenuto a specificare che non è una soluzione alternativa a Piazza del Papa, il salotto buono, quello della Movida di Ancona. E poi da Anna e Melissa nelle Marche, l'ultima annata del 2022 e la prima del 2023, sono entrambe femmine, questo è un segnale di speranza e di bellezza come al solito quando si arriva in questo momento dell'anno, la statistica ci porta a considerare l'ultima venuta al mondo, l'ultima vita venuta al mondo e la prima vita invece che ha scoperto il mondo con il nuovo anno. Il bilancio della notte di San Silvestro però è anche purtroppo caratterizzato dalla cronaca, quindi ferite da petardi, incidenti, cassonetti a fuoco e anche un brindisi alla candeggina con i feriti per i botti, qualcuno che ha dato un po' in escandescenze più che altro sotto, chiamiamoli, fumi dell'alcol della notte di San Silvestro, gli interventi dei vigili del fuoco, quelli delle forze dell'ordine anche per garantire comunque la sicurezza. E poi spade, pugnale e pistole scoperto, un arsenale illegale nel Fermano, questa scoperta è avvenuta da parte dei carabinieri. E poi abbiamo ripercorso un 2022 contraddistinto da emergenze, vere e proprie come l'alluvione ed il sisma, fatti di cronache, quelli di politica e di sport, con un servizio per l'appunto che ha ridescritto lo svolgersi dello scorso anno nelle Marche attraverso le sue principali notizie. Poi scorrendo ancora il nostro portale troviamo insomma altre notizie, come sempre lo potete sfogliare anche per visualizzare quelli che sono i video e dunque i servizi della redazione giornalistica di ETV. Ora entriamo nel cuore della rassegna stampa iniziando dall'edizione in digitale dei quotidiani locali, lo facciamo con il Corriere Adriatico, edizione di Ancona, piazza piena, festa a metà, il titolo di apertura in 3.000 al Brindisi con il Sindaco davanti al Teatro delle Muse, molti locali sono rimasti chiusi, raffica di botti nel centro blindato, 12 multe e sequestri, 3 feriti, una ragazza dovrà operarsi e poi in taglio centrale i vandali di Capodanno, l'incendio spento dai pompieri e scoppiato un rogo al passetto per lancio di petardi. Ancora cronaca, gli ruba il cellulare poi lo accoltella, pakistano arrestato e accaduto sempre in centro a Dancone, sempre nella notte di San Silvestro, anche questo si ricollega ai diversi episodi più o meno importanti appunto di cronaca. Brucia l'alti in moto, viene inseguito, preso il giorno dopo, è accaduto invece a Falconara e poi ad Osimo i ladri nelle villette ripresi dalle spycam, i furti sono senza tregua. Di spalla il nodo principale, quello della sanità con cui si è chiuso il 2022 e si riapre il 2023 per la regione Marche è quello che si lega alle nomine e che si è legato alle nomine ad interim dei direttori generali delle nuove aziende territoriali che dal primo gennaio, dunque da ieri, hanno sostituito le aree vaste. Si è aspettato fino all'ultimo giorno, a disposizione si legge nell'incipit di questo pezzo, tra un panettone e uno spumante e la giunta Acquaroli, ha nominato al photo finish i commissari straordinari delle cinque AST che da ieri hanno sostituito le aree vaste. Nella riunione dell'esecutivo del 31 di dicembre sono volati stracci, in particolare sul nome di Maria Capalbo per l'azienda sanitaria territoriale 1, quella che di fatto corrisponde all'ex area vasta 1 e che ingloba anche l'azienda ospedaliera Marche Nord. Trincea pronto soccorso, i miei 40 anni a Torrette, lettera al corriere del primario uscente Aldo Salvi, andarmene mi angoscia ma lascio in buone mani, talvolta mi angoscia non poter più scendere in trincea con i miei collaboratori ma mi conforta sapere che lascio in buone mani, sono le parole appunto del primario uscente che va in pensione e lascia la guida della medicina d'urgenza del pronto soccorso di Torrette. Di piede, ladra sbadata ruba in auto ma dimentica il cellulare, capita anche questo quando forse non si è, se mi passate è un pochettino la definizione del mestiere. Ma scherzi a parte, torniamo sul tema della sanità, sono scelti i commissari Ponte fino al bando per i direttori operativi, operative da ieri, le aziende provinciali, le cinque figure individuate dal governo Acquaroli per guidarle sono Maria Capalbo per quello che riguarda l'azienda 1 Pesaro Orbino, Nadia Storti ex direttore generale di Asur Marche e dell'area Vasta 2, adesso è stata scelta come commissario per l'Ast 2, Ast 3 di Macerata Antonio Draisci, ex direttore amministrativo di Marche Nord, per l'Ast 4 di Fermo Roberto Grinta, ex direttore dell'area Vasta 4 e per l'Ast 5 quella di Ascole Piceno, Vania Carignani, ex direttrice della struttura complessa controllo di gestione dell'ospedale di Torrette di Ancona. Per la direzione dell'ospedale proprio di Torrette, ovvero della nuova azienda universitaria, ospedaliero universitaria delle Marche, Nadia Storti è ancora in corsa anche per il ruolo di futuro direttore generale, ma da qui in poi sarà una scelta anche di natura politica. Questo per l'edizione di Ancona, ci spostiamo ora sull'edizione di Ascole San Benedetto del Corriere Adriatico, titolo di apertura troppi brindisi, sbronze di capodanno, 100 punti decurtati agli automobilisti, sorpresi ubriacchi alla guida, pienone in piazza del popolo, il tradizionale tuffo in mare dei vichinghi, la figlia del sindaco di Castorano e l'ultima nata nel 2022. A San Benedetto taglio centrale aumentano i parcheggi e le menze scolastiche, arriva la prima stangata in Riviera dal 1 di gennaio, dovremo farci i conti in tasca e essere molto attenti a come cambieranno alcuni prezzi, alcuni costi di beni di cui usufruiamo in maniera abbastanza quotidiana, in particolare dai carburanti, quindi benzina, fino ai pedaggi autostradali dal punto di vista locale, ne è un esempio il comune di San Benedetto, parcheggi e menze scolastiche. Gli staccano visti in aula e chi diserta troppo le sedute del Consiglio Comunale di Ascoli, una piccola inchiesta all'interno appunto del Corriere Adriatico. La cronaca schianto in auto dopo la festa coinvolti cinque giovani a Cupra Marittima, Grotta Mare invece conclusi, i lavori sul lato ovest del lungomare. Tema aborto in area vasta 5. Gli aborti al mazzoni non saranno sospesi, la direzione dell'ex area vasta assicura il servizio dopo la revoca della convenzione fatta con l'AIED. Cosa succederà ora che la ex area vasta ha disdetto dopo 42 anni la convenzione con l'AIED per l'interruzione volontaria di gravidanza? Si potrà ancora abortire all'ospedale Mazzoni? Per quale motivo la convenzione è stata revocata? A tutte queste domande ha risposto in una nota ufficiale la direzione, come abbiamo detto, dell'ex area vasta 5 che assicura che non ci saranno interruzioni ma che soprattutto si potrà comunque interrompere la gravidanza sia all'ospedale di Ascoli Piceno sia all'ospedale di San Benedetto anche perché ci sono anche nuovi medici ginecologi che non sono obiettori. Di piede la figlia di Rozzi dell'ex patron storico dell'Ascoli Costantino Rozzi che dice ci piacerebbe riavvicinarci all'Ascoli Calcio. Questo per chiudere la prima pagina di Ascoli, ecco la prima pagina di Fermo, Capodanno rilancia al centro, festa record, assalto ai musei ma sulla Casina è polemica, vendere errore madornale, sono queste le parole dell'opposizione in consiglio comunale appunto a Fermo e per Casina si intende la Casina delle Rose per la quale è stata accettata come ipotesi, come soluzione quella della vendita. Pienone invece nel locale a Porto San Giorgio il benvenuto al 2023 con il tradizionale tuffo in mare che è un appuntamento che si svolge ormai lo possiamo dire praticamente da nord a sud in tutta la regione. Taglio centrale con la cronaca, l'allarme a Lido Trearchi, giovane aggredito da due Rottweiler e poi la polemica sui licenziamenti alla Steat, la società di trasporto pubblico locale, finisce ora in regione. A San Benedetto l'ora della stangata, come abbiamo detto in precedenza, fra sosta e menze, ecco tutti i rincari, ubriaco, si schianta, paura nella notte per cinque amici, l'altro fatto di cronaca che abbiamo già letto e che arriva da Cupra Marittima. Porto Sant'Elpidio, Caro Vita, aiuti alle famiglie, spuntano altri 39 mila euro, impegno del comune i prossimi stanziamenti prima di carnevale. Bollette pazze e rincari, crescono dunque gli aiuti del comune alle famiglie contro il Caro Vita? Quasi 600. Le domande accolte ma ora spuntano altri 39 mila euro. Inoltre ci sarebbe da sfruttare anche un tesoretto di oltre 10 mila euro i prossimi stanziamenti già prima delle prossime feste di carnevale. Bilancio, stop in consiglio, scoppia la polemica, invece ciò che arriva da Montegranaro, in questo caso era atteso il voto del consiglio comunale su un passaggio fondamentale, quello appunto dell'approvazione del bilancio, ma stop in questo senso scoppia la polemica politica nel comune di Montegranaro. Prima pagina dell'edizione di Mascerata, via gli appalti per le scuole, partite le gare per i nuovi plessi da costruire a Cornetto e Vergini, le opere da ultimare in due anni. A febbraio la scadenza dei termini e poi l'affidamento dei lavori a Sessore Marchiori. Impegno straordinario. Taglio centrale con in piazza per brindare al 2023, la festa Last Minute ha macerata i commercianti che esultano promossa la festa. C'erano state polemiche, c'erano state anche critiche perché inizialmente non c'era alcun appuntamento ufficiale organizzato dall'amministrazione comunale, invece nel giro di poche ore, davvero alla vigilia della notte di San Silvestro, poi c'è stata un'unione di intenti e una collaborazione tra le associazioni Proloco e commercianti del Centro Storico e il comune di Mascerata stesso ed è andata in scena dunque la festa in piazza anche per brindare al 2023 con un successo, come evidentemente ci confermano anche le foto. Sempre macerata bonus da 1000 euro ai dipendenti di APM che avranno dei figli, mentre a loro Piceno si torna a parlare di Covid nella casa di riposo. A 109 anni di nuovo positiva, ma è evidente che a 109 anni questa ospite della casa di riposo di loro Piceno abbia ancora la tempra per combattere e per lottare anche contro il Covid. Melissa e Carlo le prime gioie portate dalla Cicogna a Macerata, le nuove vite dunque che sono venute al mondo. E poi la cronaca con l'abitazione svaliggiata nella notte di Capodanno, ride ai danni di un rivenditore di preziosi portati via i gioielli, bottino di 50.000 euro. Un vero e proprio maxifurto in un'abitazione a Porto Recanati nel Mirino. Comerciante di preziosi, i ladri sono entrati in azione mentre tutti stavano festeggiando l'arrivo del nuovo anno. Poco dopo la mezzanotte la banda è riuscita a introdursi nella casa e rubare gioielli per un ammontare di circa 50.000 euro. Stop ai vandali restyling per il Parco Cecchetti a Civitanova. Un altro passaggio dunque nella riqualificazione di alcune aree della città. Chiudiamo la rassegna del Corriere Adriatico con l'edizione di Pesaro. Nascite dimezzate in 12 anni negli ospedali di Pesaro. Fano e Urbino si è passati dagli oltre 2.800 parti del 2010 ai 1.500 del 2022. Il direttore di ostetricia Cicoli si tratta di una vera emergenza e le coppie vanno aiutate. È il grido di allarme del direttore appunto Cicoli di ostetricia. E poi in taglio centrale il tuffo nel 2023 per 60 temerari folla alla Rotonda Bruscoli per assistere al tradizionale e consueto bagno del primo dell'anno fortunatamente. Quest'anno anche le temperature lo dobbiamo dire hanno aiutato e hanno spinto anche coloro che erano fino all'ultimo dubbiosi se fare o meno una cosiddetta mattata. A Fano a San Silvestro le feste in piazza fanno il pienone. A Monbaroccio invece si parla di ospedale e scuole con lavori per 10 milioni che aspettano soltanto il via per poter cominciare. A Pedriano cronaca pirata della strada urta una pecar feriti. Due diciassettenni. A Marotte invece auto in panne vengono soccorse ma reagiscono aggredendo. Una ragazza si è scagliata contro i carabinieri è finita in manette con l'accusa di resistenza. Soccorse con l'auto in panne aggrediscono gli automobilisti e poi anche i carabinieri e una ragazza è stata arrestata. È successo nella penultima notte del 2022 prima di Capodanno con i residenti in transito tra Mondolfo e Marotta intorno a mezzanotte e mezzo che hanno visto un'auto ferma al centro della strada. Di lì evidentemente è scoppiato qualcosa e una in particolare si è scagliata contro le forze dell'ordine ed è finita anche per essere arrestata. Esondazione l'intervento sull'Arzilla lascia i rischi. Lo sostengono i residenti che si trovano vicini alla foce del fiume dove sono stati effettuati dei lavori di messa in sicurezza ma che a loro dire non risolverebbero del tutto il rischio di una futura esondazione da parte dello stesso fiume. Questo dunque è ciò che ci riporta il Corriere Adriatico nelle sue cinque edizioni in digitale da Ancona a Pesaro. Ci spostiamo ora sul resto del Carlino con il formato. È una prima pagina locale che è legata e che fa sintesi di tutte le principali notizie delle marche. La troviamo qui immediatamente. Andiamo per ordine. Le feste super in piazza sono tornate piene. Tantissima gente agli spettacoli e alle iniziative che hanno caratterizzato le città della regione per il capodanno. Poi c'è Ancona che si prepara già al 2024. Ci saranno i fuochi di artificio al porto. L'idea è arrivata alla candidata a sindaco del centro-sinistra Ida Simonella. A San Benedetto si tuffano in mare per salutare il nuovo anno così come hanno fatto anche in altri comuni e in altre città delle marche. In taglio alto abbiamo le principali notizie di Pesaro. Intanto, come abbiamo letto anche come titolo di apertura sul Corriere Adriatico, anche qui c'è l'allarme delle poche nascite. Date e incentivi alle giovani coppie è ciò che dice il primario di Ostetricia Cicoli che ha sottolineato con numeri e dati alla mano la diminuzione di nuovi nati nel giro di circa 12 anni e soprattutto quello che potrebbe essere utile perché le coppie oggi tornino a pensare anche ad avere un figlio e a completare la famiglia. Poi questa è una posizione che farà comunque sia discutere, questo è chiaro perché poi non è soltanto una questione di incentivi alle giovani coppie anche se forse è una delle questioni più importanti tra le tante che rientrano dentro il tema della diminuzione delle nuove nascite. Domani i funerali dell'imprenditore Guerrino Radi, il luto nel Pesarese e poi arrivano i cinque commissari delle AST nominati dalla Giunta, il tema legato alla sanità e che è stato anche il tema a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno a Palazzo, Raffaello, sede della regione. Il ricordo di Papa Ratzinger, fu il primo Papa nei nostri cantieri, pranzò con gli operai della Fincantieri nel settembre del 2011, dopo la sua visita tornò il lavoro per tutti noi, un miracolo. È il racconto di quell'11 settembre del 2011, seconda volta in quel momento del Papa appunto nelle Marche, arrivò ad Ancona, al porto di Ancona dove all'interno dell'area dello scalo Fincantieri fu sistemato il palco dal quale celebrò messa e poi andò a pranzo con alcuni rappresentanti dei lavoratori, anche di Fincantieri, una delle tante vertenze dell'epoca. Poi ci furono altre due visite, una nel 2007 alla Gorà dei Giovani di Loreto a Montorso e poi un'altra nel 2012, il 4 ottobre del 2012, sempre però a Loreto, celebrando messa nella Basilica. della Santa Casa. Le notizie da Ascoli fermo, Lidio Trearchi, ragazzo aggredito da due cani, si indaga ora sui motivi. Violento scontro tra auto, due i feriti sulla circonvallazione nord di Cupra Marittima, poi disoccupazione in crescita, difficoltà per l'edilizia nel Fermano ad Ascoli. Ora si può chiedere di abortire anche all'ospedale Mazzoni. Dopo appunto la polemica, dopo il mancato rinnovo della convenzione con l'Aied, l'ex Arravasta 5 ha tenuto a precisare, si potrà abortire anche all'ospedale. A Macerata, addio al medico Stefano Norscini, colpito dalla SLA o Torino Laringoiatra, conosciuto appunto a Macerata. Colpo in casa del gioielliere Maxi Bottino, questo è il fatto di cronaca nella notte di San Silvestro che arriva da Porto Recanati. E queste le notizie principali che arrivano invece dalla prima pagina Marche del resto del Carlino. Ora la rassegna stampa la spostiamo dal fronte locale al fronte nazionale andando a leggere le home page con cui oggi ci informano sia il Corriere della Sera che la Repubblica. Cominciamo proprio con il Corriere della Sera e c'è un retroscena in apertura, ovvero la telefonata di Melonia Mattarella e la strategia per il nuovo rapporto dopo il discorso del Presidente della Repubblica nella serata del 31 di dicembre, molto apprezzato dalla Premier, il ruolo di Mantovano nei contatti con il Quirinale. E poi soldatessa, marinaia e devota al mistero della donna che appare accanto a Putin, sarebbe uno degli attori di cui si è circondato lo zar per il suo discorso di capodanno e registrato in una base militare. Il giallo aroma della turista israeliana coltellata la schiena a termini è grave. L'uomo ha colpito la ragazza di 24 anni con tre fendenti apparentemente senza però alcun motivo e poi si è allontanato. Cambiano intanto le regole per la quarantena. A fine isolamento senza tampone dopo cinque giorni la nuova circolare Covid con la precisazione che la fine dell'isolamento senza tampone dopo cinque giorni è soltanto legato agli asintomatici, cioè coloro che sono sì positivi al Covid ma che non hanno sintomi. Questo è doveroso e giusto specificarlo. Poi l'inchiesta di Bruxelles. Gli amici della squadra di Panzeri PM sono pronti per lo stop all'immunità in arrivo le richieste al Parlamento. Sarà l'occasione per chiarire i confini della rete di corruzione. E poi questa storia molto particolare. L'aereo ha un problema nel Pacifico. 214 passeggeri perdono, tra virgolette, la mezzanotte di capodanno. È successo al volo tra Los Angeles e Sydney per una perdita di olio al motore. Il Boeing 787 devia a pago pago nelle Samoa americane. Quando ripartono i passeggeri saltano dalle 3.29 di notte del 31 dicembre alle 3.30 del 1 gennaio 2023. Questo anche per un discorso di fusi orari, di divisione appunto longitudinale dei vari punti ora del nostro mondo. In un calcolo particolarmente strano, no? Perché questo è sicuramente un caso più che unico. Appunto si sono persi un minuto e quel minuto è corrisposto alla perdita, diciamo, della mezzanotte di capodanno. Il racconto dei miei incontri con Ratzinger parlo con il silenzio e confido che sia apprezzato i colloqui nei giardini vaticani e tra le mura di Massimo Franco. Il rapporto tra lui e Francesco, attuale papa, non era scontato che funzionassero, ma si prepara ai funerali però del papa emerito, attesi milioni di persone appunto a Roma. Clamoroso furto in villa, una modella e un imprenditore a Milano, rubati due milioni e mezzo di gioielli e borse, il colpo a novembre nella casa abitata da Karim Kalaf, golden boy della finanza londinese e della moglie russa Galina Genis, quando è successo i due erano a Dubai. Sempre a Milano, a capodanno bruciano un manichino di carta pesta con la divisa da poliziotto Salvini che dice sono dei cretini. Home page di Repubblica, l'apertura sul covid con l'intervista a Magrini di Haifa sui vaccini, il governo tace ma la corsa è già ripartita con un aumento importante di nuove vaccinazioni. Poi la faida dei tamponi, Zai ha intercettato scredita Crisanti, lo farò schiantare in un'intercettazione telefonica per l'appunto. A Roma termini, ragazza israeliana coltellata in stazione mentre prende il biglietto alla macchinetta. E' grave. E poi ecco qui un'immagine dei due papi con i bergogliani e i nemici in Vaticano, la lunga resa dei conti con vista sul conclave dopo la morte di Benedetto XVI. Lotta al nero nel PNRR.